La hotline per i suicidi? Sì, io mi chiamo Joe, e tu? Jean-Michel. Jean-Michel. Cosa sei, francese? Haitiano. Sto per farmi scoppiare il cervello. Aspetta un attimo, parliamone. No, adesso prendo le pillole. Che tipo di pillole? Rosse, blu, verdi, tutto l'arcobaleno del cazzo. I creditori mi stanno alle costole. Sei in prigione? No, questa città mi uccide. Dillo a me. Stai parlando con l'uomo giusto. In che modo ti uccide? Il mio ragazzo mi ha lasciato. Ci sono passato anch'io, lo ami? Non particolarmente. Sono solo. Lo siamo tutti qui. Io rispetto i pazzi e ottengo mancanza di rispetto. Io ti rispetto per aver fatto questa telefonata. Non è una telefonata facile da fare. Non sarai tanto strafottente quando arriverà la polizia. Stai bene? Cos'è questo rumore? È mia madre. Tutto l'arcobaleno del cazzo.